buongiorno così buongiorno come state come va avete dormito bene ecco ragazzi si viene voglio parlare con mamma che ho fatto un sogno stranissimo e siccome qua a casa si è da ristrutturare pesantemente stanotte con sogna vero mamma stamattina ho sogna tantissime colombe bianche non so cosa che vuol dire sono da guardare sembra una roba positiva speriamo bene mi amore ma io comincio a lavorare